Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere il nuovo effetto vibrato della boss e si può cliccare anche sulla chitana classica quindi non solo l'elettrica, quello classico vibrato ma un semplice perale ma passiamo subito a vedere come funziona questo effetto basta fare così un range dinamica molto ma molto ampio anche sulle frequenze alte sulle basse, un po' di meno testato su qualsiasi chitarra classica, acustica, senza jack ecco il pedale è qui come vedete il pedale si nasconde tutto qui semplicemente è un pedal home pedal basta fare così questo è l'effetto dalla boss è tutto ora presenterò questo nuovo pedale è una tecnologia molto avanzata si parla di transistor legato alla fisica quantistica che vedremo fra circa 12 anni l'attesi elettronica sta lavorando su questo da mirare in tutto a voi la linea